Quello che sto registrando adesso sarà l'episodio numero 677. 677 tre minuti equivalgono a più di 33 ore di parlato ininterrotto. 33 ore, quasi due giorni interi. E come ogni anno, alla fine dell'anno, alla fine dell'anno dei tre minuti grezzi, mi si presenta il solito quesito. Che fare? Continuare questi tre minuti, lanciati così senza paracadute, parlando di quello che viene, continuare a investire il tempo che mi occorre, perché anche se ormai ho creato un processo lavorativo molto lineare, molto veloce, però occorre sempre un bel po' di tempo a creare questi tre minuti grezzi. Che fare? Quindi continuare? E se continuare? Per quanto tempo? In che forma? Non lo so, sono le domande che mi pongo al momento, anche guardando un po' quelli che sono gli ascolti. L'ho sempre detto che questo mio programma, se vogliamo chiamarlo così, non lo faccio per gli ascolti, ma lo faccio perché mi diverte. Allora mi chiedo, mi diverte ancora? Ne vale ancora la pena? Rispetto al primo anno dei tre minuti grezzi, sicuramente ho aumentato il numero di ascolti, ma stiamo ancora parlando di cifre minime. E se da un lato dico, ma chi se ne frega, chi mi ascolta, chi non mi ascolta, però avere anche l'impressione di fare le cose buttate così per le mie fedelissime persone che mi seguono, e so chi siete, magari ci sono anche delle altre che non conosco, perché ripeto, rispetto al primo anno ho il doppio, più del doppio, dalle persone che mi seguono, ma perché il primo anno sono partita veramente con dei numeri molto, molto bassi. Non lo so, me lo sto chiedendo, forse veramente dovrei o modificare il modo in cui faccio i tre minuti, non fare più tre minuti, non lo so, dedicarmi a un podcast settimanale o mensile, più nelle corde delle cose che faccio quando faccio le cose seriamente, non che i tre minuti non siano seri, li faccio in modo molto serio, però non hanno nessun tipo di editing, nessun tipo di preparazione, proprio poco fa ho finito un pezzo invece molto elaborato, ed è bello quando faccio i pezzi elaborati perché mi ci perdo completamente, e mi piace farli, ascoltarli, riascoltarli, modificare ogni piccolo o micro secondo dell'audio che si sente. Non lo so, forse il mercato non è maturo, non è adatto alle cose che faccio io, non lo so, ci penso ancora e comunque vi accorgerete della decisione perché avrà riprecussioni su quello che produco. Ok, that's it.